Sono una cosmetologa e sono specializzata nella salute del capello e ho lavorato con lo stato di mio marito per partire di sette anni. C'era un'area vicino alla corona dei capelli dove notavo una certa attività che non c'era prima da quando avevo usato i cerotti. Ho anche una specie di microscopio speciale, riuscivo a vedere i capelli piccoli, stanno iniziando a crescere, in questa zona dove non c'erano, stanno crescendo veramente bene, meglio di prima. Siamo molto casati e usiamo i cerotti da metà agosto, non vedo l'ora di vedere i risultati da un anno a questa parte. Quando ho conosciuto mio marito 35 anni fa, i suoi capelli erano spessi, grossi e con gli anni è cambiata un po' la loro struttura e si sono sempre di più assottigliati. Ora però ogni capello si sta di nuovo, sta aiutando più spesso e è importante sapere che le cellule staminali lavorano molto spessi e vedo questo effetto su mio marito e lo sto usando adesso anche nella mia pratica di cosmetologia.